Ehi sono Pazzox e ben ritrovati in questo nuovissimo video su come trovare tutti i manufatti della settimana numero 6 Che bella lino che era uscito Come al solito ricordate Inserisci il codice Pazzox all'interno dello shop di Fortnite se vuoi supportare questo creatore Il tuo supporto garantirà tantissimi nuovi video e tantissime nuove stories Il primo manufatto lo trovate nella piccola isola dove si trovava l'NPC di Aurelia Il secondo manufatto nelle vicinanze di Gattopril sulla grande montagna innevata In questo piccolissimo edificio di comunicazione Il terzo manufatto è già abbastanza difficile da trovare Si trova in questo punto specifico della mappa tra questi tre alberi In una zona infetta da dagli alieni Nelle vicinanze di Moni Molesti Il penultimo manufatto è a potere Pannocchia Ben nascosto è stato davvero davvero difficile da trovare tramite il replay Perché era sotto al soffitto Ma vedete questi della Epic come nascondono per bene le cose Ed ultimo manufatto si trova nelle vicinanze del grande faro Piccola casetta nello sgabuzzino Praticamente dove si trova Gojimon O Googimon non so come si pronunci Spero di esservi stato utile anche per il video dei manufatti Fatemi sapere come state personalizzando il vostro chimera Se l'avete già fullato Che dire ai pazzoidi Noi come al solito ci vediamo con dolcissimo e carnissimo Jeje